Ciao Arnold, un'altra sessione notturna di Degrado guardando la tv? Allora, cosa abbiamo qui? Elon Musk ha lanciato un nuovo razzo nello spazio e lo spazio ha lanciato un meteorite contro Elon Musk. Arnold, rilassati, non sai nemmeno cos'è un meteorite. Un meteorite è un grande corpo celeste di origine cosmica. La loro massa varia da pochi grammi a migliaia di tonnellate. E niente paura, c'è solo un caso di un meteorite che ha colpito una persona nella storia nel 1954 e anche allora ha colpito qualcuno alla gamba. Sembra che qualcuno si stia offrendo volontario per salvare il pianeta e sta solo scoppiando di entusiasmo. Sembra che questo episodio sarà il più breve di sempre e avrà un lieto fine. Ah, no, non importa. Stesso vecchio, stesso vecchio. Sembra che il nostro pianeta stia per essere distrutto. O forse c'è un altro salvatore. Potrebbe essere Arnold. Eccellente! Sceglieremo un vestito per te. Quindi questo è un... No, decisamente non questo. Eeeh, no! Ora questo. Questo è quello di cui hai bisogno. Anche se potremmo semplicemente copiare ciò che ha fatto il progetto DART di SpaceX. Si prevede che nel 2022 un veicolo spaziale del peso di 500 kg si schianterà contro un asteroide chiamato Didymos a una velocità di 6 km al secondo. Il pilota automatico non è stato ancora installato, quindi dovrai volare manualmente e diventare un eroe. Oh, wow Arnold! Sei sopravvissuto! Praticamente come tutte le altre forme di vita inferiori. Come i microbi! Ma ora c'è un piccolo problema con l'acqua. Dopo che una meteora di 100 km di diametro ha colpito la Terra, l'onda d'urto ha distrutto quasi tutta la vita entro un raggio di 100 milioni di km quadrati. C'è stato un enorme rilascio di zolfo e la polvere e la cenere di tutta la distruzione salirono nell'atmosfera superiore e bloccarono l'accesso ai raggi del sole. Tu devi essere affamato. È un bene che tu abbia tenuto il tuo cibo spaziale nel razzo. Non c'era cibo? È terribile! Perché non c'è più cibo sulla Terra! È positivo che tu indossi una tuta spaziale, dato che fuori ci sono meno 50 gradi e non vuoi camminare qui per molto tempo. Attento! Ho dimenticato di aggiungere che sono sopravvissuti anche gli scarafaggi e sono mutati solo un pochino. Faresti meglio a correre verso l'infinito e oltre... Arnold! Come diavolo sei finito in uno stato del genere?